Come mai non riesco a mettere a fuoco dove voglio io con il mio dispositivo fotografico? Nel corso di molti anni di carriera e diversi anni di consulenza, credo che questa sia in assoluto la domanda che mi è stata fatta più spesso, soprattutto dai principianti. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, come sapete mi occupo di fotografia e di video. Oggi andremo a rispondere alla domanda che mi sento fare più spesso in assoluto da quando faccio questo lavoro, ovvero, in parole povere, perché non riesco a fare delle fotografie a fuoco, perché non riesco a mettere a fuoco dove voglio e ad avere un'immagine nitida quando vado a scattare le mie fotografie. Comincio col dire che l'argomento è incredibilmente variegato e per questo motivo vi lascio in card alcuni capitoli che ho già realizzato, in particolare sulla messa a fuoco, che cosa può andare storto quando andiamo a cercare di focheggiare e tattiche metodi che possiamo utilizzare per cercare di migliorare la nitidezza delle nostre fotografie. A questo proposito vi ricordo che se questi temi vi possono interessare il bottone iscriviti è qui sotto. A voi non costa nulla, a me date una grossa mano. Cerchiamo innanzitutto di capire che cosa intende l'utente tipo quando mi fa questa domanda. Un utente in particolare mi fa vedere una fotografia. In questa fotografia c'è un bambino, il figlio, il nipote, poco importa. C'è un bambino in un corridoio buio e la foto è oltre che orribilmente deturpata da una quantità di rumore tale che mi viene immediatamente da pensare che sia stata scattata con un telefono cellulare, cosa che mi viene immediatamente confermata pochi secondi dopo. Oltre a questo la fotografia è anche mossa e anche sfocata. Ciligina sulla torta, la fotografia è composta male e pensata male. Ovviamente queste cose tutte insieme non passano inosservate e il povero autore si dispera e viene a chiedermi consiglio e mi domanda che cosa ho sbagliato, che cosa c'è che non va in questa immagine. Ora io purtroppo non posso farvela vedere perché non ho la liberatoria e non voglio neanche infierire, però ve l'ho descritta abbastanza bene. Andiamo a cercare di capire che cosa c'è che non va in un'immagine del genere e andiamo a cercare di capire perché era impossibile scattare quella foto, perché questa persona avrebbe dovuto capire che non avrebbe nemmeno dovuto provare a farla e questa spesso è la risposta. Perché non riesco a fare le mie fotografie? Perché non riesco a mettere a fuoco dove voglio? Perché non mi viene quello che voglio fare? Perché non puoi? Molte volte la risposta è questa. Non puoi farlo. Con il mezzo fotografico a tua disposizione non è possibile farlo. Andiamo a vedere perché. Dunque stiamo lavorando in un corridoio buio. Abbiamo un bambino che probabilmente corre, non si muove certo a rallentatore per permetterci di portare a casa la fotografia. Nella fotografia sorrideva e quindi probabilmente si stava divertendo, magari stava giocando, quindi non andava a certo piano per farsi immortalare da noi. Come unico device in nostro possesso abbiamo un telefono cellulare. Ora, non ha importanza quale telefono cellulare sia. I telefoni cellulari fanno faville, ma ci sono cose che non riescono e non riusciranno mai a fare bene come una macchina fotografica. E una di queste cose è focheggiare e scattare una fotografia in mancanza di luce. Dunque, che cosa succede quando ci troviamo in un ambiente scarsamente illuminato? Il nostro dispositivo fotografico, in questo caso uno smartphone, fa la sola cosa che può fare, ovvero modifica i parametri per permetterci di catturare l'immagine. Se non lo facesse, l'immagine verrebbe completamente nera, perché non c'è luce. Per cui il cellulare, intelligentemente stato progettato così, altera i parametri automaticamente per permetterci di portare a casa quantomeno un'immagine un minimo definita. Quindi non sarà una foto nera, anche se siamo al buio, non sarà mai una foto nera. Sarà una foto sporca, piena di rumore, un po' sfocata, e il nostro telefono altererà i parametri e quindi aumenterà i valori ISO per darci più sensibilità, il che introdurrà del rumore e allungherà i tempi di posa per permetterci di catturare più luce, il che produrrà del mosso, perché noi stiamo tenendo il telefono in mano e quindi la foto viene mossa. Il nostro telefono lo sa, è progettato per cercare di stabilizzare in qualche maniera l'immagine digitalmente con l'intelligenza artificiale, chi più ne ha più ne metta. Quindi questa immagine non sarà mai nitida, non sarà mai pulita. Se stiamo facendo una natura morta, se stiamo facendo un oggetto inanimato, qualcosa che non si muove, un paesaggio, una veduta, è possibile che riusciamo a portarci a casa una fotografia con quantomeno i colori che vedevamo veramente. Poi sarà sporca, sarà brutta, sarà poco nitida, ma i colori, l'idea di quello che vedevamo, riusciamo a portarcelo a casa. Però questo al costo di ISO aumentati e tempi di posa espansi. Ora, gli ISO aumentati, come detto, ci aumentano il rumore nella nostra immagine, diminuiscono la gamma dinamica e diminuiscono la nitidezza. Quindi non sarà mai una bella foto. Ma perché viene così mossa? Viene così mossa perché dilatando i tempi di posa e provando a mettere a fuoco su qualcosa che si sta muovendo, in un contesto buio, quindi il nostro telefono non riesce a mettere a fuoco bene perché magari non vede i lineamenti, che cosa succede? Il telefono fa una messa a fuoco approssimativa e quindi probabilmente, anche se con un sensore così piccolo la profondità di campo è molto massiccia, probabilmente il fuoco è sbagliato. Quindi già non avremo mai la nitidezza massima, seppur consentita in un contesto svantaggioso come questo. Non avremo nemmeno la nitidezza che avremmo nella stessa condizione se avessimo messo a fuoco correttamente. In più si unisce anche il fatto che avendo dilatato i tempi di posa, se un bambino ci sta correndo incontro, noi lo mettiamo a fuoco quando si trova qui e scattiamo la foto quando si trova qui. Quindi già il fuoco è mancato. In più questo bambino comincia a venire registrato quando si trova qui e finisce di essere registrato quando si trova qui. Per cui si è mosso. Nel lasso di tempo che il nostro telefono ci ha messo a catturare quell'immagine si è mosso. Per cui abbiamo tutto contro. Abbiamo una foto brutta, piena di rumore, con una gamma dinamica diminuita, con il fuoco sbagliato e con un mosso introdotto dal movimento del soggetto oltre al micromosso introdotto dalle nostre mani perché la posa si è allungata. Ora, in un contesto del genere, io non posso fare altro che prendere atto della situazione e dire al malcapitato o alla malcapitata guarda, tu sei un eroe per averci provato lo stesso, mi rendo conto che era un bel momento, ma certe volte esistono dei momenti in cui con la strumentazione che hai in mano non puoi realizzare la fotografia. Semplicemente non puoi. E non è colpa tua, è proprio un fatto fisico. Non sei in grado di farlo. Proprio come se a me dessero un fisciai e mi chiedessero di fotografare un fiocco di neve, in macro ovviamente intendo, gli risponderei guarda, non sono in grado di farlo. Proprio come se mi dessero un'ottica da f8 come massima apertura e mi dicessero adesso mi devi fotografare la via Latte a ISO 100, gli direi non posso farlo, non sono in grado di farlo. Questa foto non è possibile. Sto ovviamente esagerando perché in un contesto come in quello descritto avrebbe potuto aiutare il flash automatico del cellulare, per esempio, avrebbe potuto aiutare magari introdurre delle luci, insomma qualcosa si può sempre fare. Però, nonostante si possa sempre fare qualcosa, secondo me è importante sapere che certe foto non è possibile farle e partire da questo. Quindi dire ok, questa foto io non posso farla. Io non posso fotografare il mio gatto nella stanza buia con il cellulare perché non viene. Quindi nel momento in cui non viene io non devo angustiarmi e dire cosa sto sbagliando. L'errore è provarci perché noi dobbiamo avere la consapevolezza tale, la consapevolezza della luce e del mezzo fotografico da sapere che quella foto non viene. Quella foto in quella maniera non viene. Se vogliamo realizzare quella foto dobbiamo o cambiare mezzo fotografico o cambiare contesto. Quindi o prendiamo una macchina fotografica più prestante che magari scatta al buio, mette a fuoco al buio e ci permette di fare quello scatto che con il telefono non riuscivamo a fare oppure cambiamo il contesto perché mi rendo conto che non tutti hanno voglia di dire vabbè dai, non riesco a fotografare mio figlio al buio allora spendo 9.000 euro, mi prendo un'ammiraglia per fotografare mio figlio al buio. Mi rendo conto che oltre a non essere alla portata di tutti sarebbe anche un po' sciocco. Però un'altra cosa si può fare invece. Si può provare a illuminare la scena in un altro modo. Un quarzetto, una lucina, qualcosa. Esistono tanti modi per portare più luce sulla nostra scena. Ovviamente uno dice ma allora la foto è possibile? Sì, certo. La foto non è impossibile. È impossibile in quelle condizioni. senza niente armati solo di cellulare senza neanche il flash incapsulato sul cellulare è completamente impossibile portare a casa quella foto ma completamente impossibile. Bisognerebbe alterare l'ambiente e perdersi magari il momento dicendo al bambino di rimanere fermo immobile per tre secondi così gli facciamo la foto ma perderemo tutta la spontaneità. Mi rendo parimenti conto che portarsi dietro strumentazione ingombrante otterrebbe lo stesso effetto ovvero quello di far perdere spontaneità al momento e magari non ce lo godremmo più perché dobbiamo fare la foto con tutta quella roba. Me ne rendo conto. Il contenuto di oggi è proprio per dirvi questo non siamo obbligati a fotografare tutto quello che vediamo non siamo obbligati a fotografare ogni momento per non dimenticarcelo i momenti più belli nella mia vita sono stati i momenti che non ho fotografato magari li ha fotografati qualcun altro ma non io perché in quel momento io me li stavo godendo ma soprattutto ricordatevi che non sempre è possibile realizzare la foto che vogliamo molte volte vediamo una bella scena e non abbiamo nemmeno la macchina fotografica o il telefono con noi e quindi non la possiamo fare molte volte vediamo una bella scena ma siamo impossibilitati a scattare quella foto faccio un esempio stupido magari io metto la testa sott'acqua vedo dei bellissimi pesci e dico cavolo che bello che sarebbe fotografarli ma io non posso cacciare il mio telefono non impermeabile o la mia macchina fotografica sott'acqua e quindi non lo fotografo lo guardo e basta allo stesso modo esistono delle scene svantaggiose dove non si riesce a fare la foto e l'unica cura molte volte è semplicemente non farla godiamoci quel momento se la foto per noi è più importante di qualsiasi altra cosa a quel punto attrezziamoci ci dotiamo di qualcosa che ci metta in condizione di farla ma non diamo per scontato che qualsiasi dispositivo fotografico sia in grado di fare qualsiasi foto perché non è assolutamente così altrimenti sarebbero stupidi tutti quelli che comprano strumentazione fotografica e videografica dedicata sarebbero stupidi tutti quelli che comprano una lente macro perché tanto si può fare col telefono sarebbero stupidi tutti quelli che comprano una custodia impermeabile per una gopro perché tanto si può fare col telefono invece non è così molte cose col telefono semplicemente non si possono fare tenetelo bene a mente amici a questo punto vi ricordo la nostra solita programmazione che se riesco a mantenere questi ritmi da tortura medievale di tre video a settimana dovrebbero rimanere il lunedì il giovedì e il sabato vi invito quindi a iscrivervi per non perdervi le puntate successive vi ricordo anche che spesso rispondo con dei contenuti brevi ai vostri commenti quindi a maggior ragione iscrivetevi così non rischiate di perdervi le risposte vi lascio come sempre spazio nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate ci sono state delle foto che avete reputato impossibili in vita vostra che siete riusciti a fare oppure viceversa ci sono delle immagini che eravate sicuri di riuscire a catturare e vi siete dovuti ricredere fatemelo sapere nei commenti e cerchiamo di sviscerare il nocciolo della vicenda e di capire quali sono le foto impossibili e quali sono le foto invece dove si poteva fare qualcosa con un po' di guizzo di genio di creatività io vi ringrazio come sempre di aver passato con me un po' del vostro tempo e vi do appuntamento al prossimo video A presto